Ampio spazio anche alla pagina del sociale con sorriso diverso, la masterclass del regista Roberto Leoni ad aprire i lavori Diego Righini con Mimmo Calopressi e Antonio Mondava invece a due giovanissime autrici, la prima edizione del premio Claudio Nobis per la scrittura cinematografica Virginia Bellizzi, Nina Fondacaro, 34 a 25 anni, la presenza della RAI continua con RAI Movie che ha presentato in anteprima da Lice della Città un documentario singolare di cui vi parla Maria Teresa Laudando, poi la linea può tornare allo studio.